Esiste un tema molto importante, cioè il medico veterinario oggi sta cambiando. La medicina veterinaria nel suo complesso ha accorciato di molto anche la distanza con la medicina dell'uomo. A volte questa distanza è fin troppo corta ed emergono delle specializzazioni che fino a ieri erano veramente sconosciute. Tutto questo accade quotidianamente sotto i nostri occhi. Omnia Mutantur è un detto dei latini che mi ricordo con molto piacere, che significa che tutto si sta trasformando, tutto si sta modificando e così anche la nostra professione, quella del veterinario. Da veterinario tuttologi, che ci occupavamo praticamente di tutti gli animali, dalle vacche ai maiali, ai cani, ai gatti, sicuramente questa professione si sta indirizzando invece a delle branche molto specialistiche. Per quello che riguarda in particolare i cosiddetti animali d'affezione, i pet, che non sono solo i cani e i gatti, ma anche tutti gli animali non convenzionali, sicuramente c'è stata una grande trasformazione in questi ultimi anni. Da parte delle università, ma soprattutto da parte di quelle che sono poi le associazioni culturali dei medici veterinari. Si sono venute a creare sostanzialmente due branche, quelle della medicina di base, ma accanto a questa, quella che viene considerata la cosiddetta medicina specialistica. Questo ha comportato che sono comparse delle figure nuove, e quindi quella dell'oculista, del dermatologo, del neurologo, del chirurgo ortopedico, figure che sono spesso molto simili a quelle della medicina umana. Anche da un punto di vista degli standard proprio, abbiamo raggiunto oramai dei livelli elevatissimi. E non ultimi, la medicina comportamentale. Questo è un settore molto delicato e molto importante per quello che riguarda il rapporto tra gli uomini e gli animali, perché effettivamente aiuta a capire qual è questo corretto rapporto tra l'animale e l'uomo. E qui si è sviluppato un settore molto importante e che sempre più piede prenderà nel prossimo futuro. Un discorso a parte va fatto invece per quelle che vengono definite come medicine non convenzionali, ovvero l'omopatia, la fitoterapia, l'agopuntura. È un settore molto interessante che però richiede delle regole certe. Attualmente invece questo mercato è in balia di chiunque. Un po' la responsabilità va ricercata anche nelle università, che sono ancora fortemente scollegate dal mondo del lavoro e non ci danno quella preparazione necessaria a affrontare un futuro che sicuramente è diverso dai vecchi racconti di James Hiram, molto poetici. La veterinaria si è trasformata profondamente in questi ultimi anni, come abbiamo già detto. La cosa fondamentale è comunque tenere presente sempre quello che è il motto dell'Ordine dei Medici Veterinari di Roma. Gli animali e l'uomo sono al centro della nostra attenzione.